Dalle infrastrutture all'energia il rilancio del sannio passa anche per il turismo, uno dei settori al centro del confronto tra imprese e istituzioni promosso in occasione dell'Assemblea di Confindustria Benevento in programma il prossimo 9 maggio, al Teatro San Vittorino l'incontro con gli industriali sanniti guidati dal Presidente Oreste Vigorito con le conclusioni del Governatore della Campania Vincenzo De Luca e da Palazzo Santa Lucia l'assessore al turismo Felice Casucci ribadisce. Benevento è veramente un modello di sviluppo del tutto autonomo, ha delle sue peculiarità, ha un'antichissima tradizione che ovviamente è connotata storicamente, quindi benissimo che Confindustria dedichi un'attenzione, un focus a questo momento turistico, sarà un'occasione sicuramente per pensare e parlare di Benevento come una nuova realtà della territorialità campana che accoglie turisti che non vanno, che non andrebbero altrove. Questo Benevento lo deve fare perché Benevento ha sicuramente la peculiarità per farlo e deve farlo creando anche una propria progettualità. Per risponente della Giunta regionale dunque bene il confronto promosso dagli industriali sanniti. Noi sul partenariato pubblico privato ci abbiamo creduto al primo momento, credo che l'azione anche che sta facendo giustamente il Presidente di Confindustria Benevento, meritevolmente, è proprio in questo, è quella di dialogare fortemente, dialogare fortemente all'interno della struttura imprenditoriale, ma anche dialogare fortemente con le istituzioni. Il lunedì sarà un'occasione importantissima, adesso è tempo in cui le imprese assumano un senso profondo di responsabilità e la parte pubblica deve assumere un senso profondo di competitività.